Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi torniamo a parlare di fumetto asiatico con un volume tanto 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 particolare edito da Toshokan e sto parlando del nostro Due Strani Mondi. Un volumotto cicciotto scritto e disegnato da Lai Tat Tatuying, autore di Hong Kong e che per la prima volta arriva nel nostro paese proprio grazie agli amici di Toshokan. L'ho comprato perché oggettivamente sembrava una cosa tanto particolare perché comunque i 12,90 euro che costa erano assolutamente ripagati dal numero di pagine e perché comunque ogni tanto mi piace provare qualcosa di diverso. E in questo caso devo dire che il fumetto di Hong Kong non è così diffuso in Italia oggi e la mia curiosità è stata ripagata tranquillamente. Quindi un volume che devo dire mi è piaciuto, ma ci sono parecchie cose da dire. Intanto iniziamo dal punto di vista puramente teorico, diciamo. L'autore, Lai Tat Tatuying, ovviamente trovate tutte le informazioni sulla costina del volume. È molto apprezzato in Giappone, Taiwan, Francia. È nato nel 71 e il suo primo fumetto autoprodotto risale al 95. È estremamente creativo, ironico e particolare e questo volume ne è assolutamente l'esempio. E tra l'altro lo trovate su Instagram come Lai Tat Tatuying, che è incredibilmente il suo nome. Ora, di cosa parla questo volume? Beh, fondamentalmente sono due racconti, più un extra di cui vi parlerò dopo, ovvero The Magic Flute e Jump Jump. Due opere estremamente diverse, che risalgono a un bel po' di anni fa in realtà, e che tra l'altro ci fanno capire quanto sia poliedrico l'autore. Perché sono due opere totalmente diverse, sia dal punto di vista grafico, ma anche banalmente nei temi e nel modo in cui sono raccontate, e anche nelle modalità in cui è divisa la griglia del fumetto. Insomma, sono due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, anche se in entrambe si notano un po' di scelte estremamente particolari e non così comuni. Quindi vi faccio vedere intanto anche qualche tavola, passando alla nostra fida telecamera da sopra. Iniziamo banalmente dalla copertina. Lo sapete che è Toshokan e quindi c'ha quel discorso lì, delle postertine. Ecco, questa non mi ha convinto molto, perché banalmente sono le due copertine rimesse in verticale. Tra l'altro sono anche non nello stesso verso e quindi, non lo so, mi sembra un po' inutile, devo dire. Ne ho viste di migliori in questa scelta, però vabbè, chi se ne frega. Sapete che è una roba che a me personalmente non interessa proprio e quindi mi lascia un po' freddino. Tra l'altro il volume l'ho dovuto comprare su Amazon, perché in fumetteria non l'ho trovato per qualche strambo motivo, ma vabbè. In ogni caso, volume 8, dicevamo, la prima storia è molto classica, almeno visivamente. Sembra influenzata un po' da quei fumetti alla Akira come stile di narrazione, direi. Non tanto, ma proprio come atmosfera, almeno visivamente. In realtà è una storia molto molto particolare, un futuro distopico, con la Terra in pericolo a causa di meteoriti, ma anche a causa degli umani stessi che hanno semidevastato il pianeta. E la cosa più bizzarra è proprio la narrazione, nel senso che non è lineare. Ci sono dei flashback che però non sono banalmente il personaggio che ricorda un evento, ma c'è proprio un ritorno al passato improvviso che non ci viene spiegato per poi tornare al futuro. È tutto molto particolare. A un certo punto, inevitabilmente, mentre il personaggio corre, lo vediamo correre di nuovo, ma non è lo stesso momento. Non sappiamo nemmeno se è esattamente la stessa persona, anche se sì, effettivamente si assomiglia. Ma c'è proprio questa sensazione di straniamento, perché non capiamo cosa ci sta raccontando e in che modo le due vicende si collegano piano piano. Poi ovviamente tutto diventerà molto chiaro. Molto piacevoli i disegni, devo dire. Lo stile mi piace tanto, è estremamente dettagliato. Sebbene poi i visi siano abbastanza semplici nella rappresentazione, ammetto che in certe scene a me ha ricordato anche un po' Mobius, tipo qua. Comunque, il primo racconto, il Magic Flute, è decisamente interessante e particolare, anche se devo dire che ti lascia un po' con una sensazione bizzarra alla fine. È un finale abbastanza criptico, ma nel complesso, una volta che tutti i fili più o meno si uniscono, diventa un racconto comprensibile, anche se ti lascia un po' la voglia di sapere cosa accadrà dopo, ma vabbè. La seconda storia, invece, è totalmente fuori di testa. Ora, Jump Jump è un fumetto tutto raccontato, dividendo le tavole in tre vignette, completamente muto, e ci metterà di fronte al viaggio di cinque ragazzi in una società che viene distrutta da un evento incomprensibile, vediamo proprio i palazzi che vengono portati via, e loro inizieranno a vagare per i rimasugli della civiltà, e piano piano a sparire uno dopo l'altro, ma la cosa non sembra preoccuparli particolarmente, e il finale, tra l'altro, è anche qua un po' criptico, devo essere sincero. Forse è anche positivo il finale, però non ne sono certo, ma non voglio farvi spoiler particolari. La cosa più incredibile in ogni caso è che, una volta arrivati al finale, c'è l'intervista all'autore, cosa abbastanza tipica nei volumi Toshokan, c'è quasi sempre, ma in questo caso l'autore ha mandato un vero e proprio fumetto fatto apposta come risposta all'intervista, e quindi l'autore ci racconterà un po' del suo passato, dei suoi lavori, di come ha lavorato, il tutto riprendendo anche scene molto simili ai fumetti cliccati nel volume, infatti rivediamo qua i personaggi di Jump Jump, e è una cosa assolutamente particolarissima, incredibile che l'autore ci abbia dedicato del tempo, e anche un bel po' di tempo immagino, perché non è il classico fumettino tirato via, è una roba comunque ben fatta, dettagliata, piena di informazioni e di disegni complessi, mi ha veramente stupito questa cosa. Detto questo, vale la pena recuperarsi due strani mondi? Secondo me assolutamente sì. Ovviamente non è il fumetto con una storia complessa lunga, che durerà anni e che vi accompagnerà nella vostra crescita, inevitabilmente. Sono due racconti autoconclusivi, particolari, ma intanto per il fatto che il fumetto di Hong Kong non è così comune da noi. Sono ricchi di significati, nel senso che sono comunque stati scritti in periodi in cui Hong Kong andava incontro a pesanti trasformazioni. Jump Jump, come ci racconta l'autore dell'intervista, è ispirato fortemente al fatto che tante famiglie di Hong Kong sono scappate quando il paese stava tornando alla Cina. La storia precedente per quanto strana e per quanto non risolutiva nel modo in cui è raccontata è visivamente interessante con una trama che comunque ti trascina e ti incuriosisce nel capire che cosa sta accadendo esattamente ai protagonisti e perché le cose stanno succedendo. Poi non ci viene spiegato troppo, ma questo accade spesso. Devo dire due racconti autoconclusivi che mi hanno soddisfatto. Sono contentissimo di aver comprato questo volume. È proprio quel tipo di storia che sapendo ovviamente quello che vai ad acquistare. È più o meno sempre così con i racconti brevi. È inevitabile. Ti lasciano un po' sempre quell'amaro in bocca nel voler sapere qualcosa di più. Ma con comunque una limitazione di spazio, perché essendo un racconto singolo non può durare all'infinito, il necessario ci viene presentato. Banalmente una lettura che sono contento di aver fatto e che rifarei e che secondo me vale la pena affrontare. Anche perché si arriva alla fine dei racconti tenendosi oh mio Dio ma che cosa ha in mente questo autore ed è sempre una cosa piacevole secondo me. Se vogliamo fare un confronto col precedente volume di racconti di Cacciatore di Draghi e altri racconti sempre di Toshio Kahn questo è decisamente più particolare anche nella narrazione. Non sono banalmente belle storie con disegni accattivanti ma c'è effettivamente qualcosa di più sotto. C'è tutta una complessità autoriale a cui probabilmente varrebbe la pena anche dare una seconda lettura per cercare di comprendere meglio quello che sta accadendo. Tra l'altro sempre l'autore nelle noti faceva notare come nella seconda storia i giovani che vediamo camminare in giro si muovano nelle varie zone di Hong Kong e che per i conoscitori della città rappresentavano un po' le zone di diversa classe sociale quindi da quelli più ricchi ai più poveri. Davvero davvero bello 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 sono contento come già ho detto che ci sia una casa di litigio come Toshio Kahn che riesce a portarci comunque fumetti diversi da quelli a cui siamo abituati da amante dei manga e amante della lettura anche banalmente solo ricreativa ammetto che ogni tanto qualcosa di un po' diverso ci vuole sono felicissimo di potermi leggere il mio Isekai senza pensieri o il mio battle pieno di botte che mi fa divertire un sacco però ogni tanto una pausa con qualcosa di diverso e che ci fa conoscere altre culture e altri modi di affrontare il fumetto è sempre piacevolissimo quindi fatevi un regalo spendete questi 12 ore 90 perché ne vale assolutamente la pena e ovviamente io vi lascio anche il link in descrizione nel caso vorrei liate provarlo e contemporaneamente aiutarmi a sostenere questo canale e questo appuntamento giornaliero quindi io intanto vi ringrazio di aver seguito il video se è piaciuto mettete un like inserite al canale cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo fatemi sapere se lo avete letto ovviamente cosa ne avete pensato sono contento di confrontarci vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch poi ricarico le live sul secondo canale Cantina Pelata qui su YouTube link in descrizione insieme a i gruppi Telegram in cui ballano i fumetti canale con le notifiche canale con le offerte a tutti gli altri social Instagram, TikTok, Facebook eccetera noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora Potere Pelato